La redazione di Radio FM1, cronache fermane, cronache piccene, presenta Zoom. Politica, cronache d'attualità, confronti ed approfondimenti dalle marche. Grazie, buonasera a te Alessandro, io ringrazio te, ovviamente Simone Corazza, che dalla regia rendete tutto questo possibile, ringrazio ovviamente il benvenuto ai nostri ascoltatori e soprattutto il benvenuto all'ospite di questa sera, Fadiana Screpante, nuova presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Buonasera Avvocato, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Giorgio, diamoci subito del tu, visto che ci conosciamo. Esatto, e abbiamo parlato tante volte. Allora, benissimo, continuiamo sulla scia del tu, però fughiamo ogni dubbio. Presidente, il presidente, la presidente, la presidentessa, avvocato, avvocatessa, avvocata. La presidente, avvocato Fabiana Screpante. Oh, benissimo. Questo è quello che mi piace, diciamo. Benissimo. Un'elezione fresca di nomina che è arrivata a margine della prima riunione del nuovo Consiglio dell'Ordine, un'elezione che ha visto quasi un plebiscito in tuo favore, perché di circa 400 votanti su 700 hai ricevuto 305, se non sbaglio, preferenze. Sì, 305 preferenze su 395 votanti e gli iscritti un po' meno di 700, perché siamo un po' in calo, il foro di fermo è un po' in calo. Ma poi quest'aspetto lo approfondiamo. Sì, sì, circa 670 al momento. 670, vabbè, vabbè. No, no, è sempre, è sempre, sì, sì, l'affluenza comunque è stata buona. Come la reputi in effetti? No, la reputo buona perché comunque la lista era unica e quindi c'è stata un'affluenza buona, proprio un riscontro positivo da parte dei colleghi, nel senso che pur sapendo che andavano a scegliere fra nomi che sicuramente si sarebbero insediati al Consiglio dell'Ordine, hanno comunque voluto esprimere col voto la loro preferenza, perché comunque le preferenze espresse potevano essere sette, i candidati erano undici e quindi sono venuti a votare e quindi da questa bella affluenza è venuto fuori questo risultato che naturalmente mi ha reso particolarmente felice. Anche perché è un attestato di stima, nel senso che agli occhi degli esterni, quali possiamo essere noi, c'era una sola lista, quindi di fatto agli occhi dei profani poteva essere anche un'elezione così quasi scontata, quasi un automatismo, non c'era competizione a livello elettorale, eppure in 400 e basta sono venuti a votare. Esattamente. Un attestato di stima, dicevo, per il lavoro fatto con l'ultima… Esatto, nella consigliatura precedente, guidata dall'Avvocato Stefano Piodini. Abbiamo avuto ospite giovedì scorso, quindi siamo praticamente senza soluzione di continuità. Esattamente. La seconda puntata di due, dal passato recente al presente e futuro prossimo. Un futuro prossimo, Avvocato che insomma ti vedrà nelle vesti di Presidente appunto affrontare alcune criticità. L'Avvocato Piodini, il Presidente uscente, ha avuto il Covid, che è stato certo non facile anche per voi. Noi abbiamo proprio una bella patata bollente che è la riforma cartavia. Ecco, partiamo proprio dalla riforma cartavia. Dalla riforma cartavia, praticamente dal primo di marzo entreranno in vigore delle nuove norme, sia per quanto riguarda il processo civile che il processo penale, che vanno proprio a stravolgere nel vero senso della parola la procedura. Quindi adesso ci stiamo già attrezzando. Nei termini, ad esempio, per quanto riguarda il processo civile, è cambiato, sta cambiando totalmente quello che è l'atto introduttivo, quindi i termini per le Costituzioni sono tutte cose abbastanza tecniche, tutte questioni procedurali che però vanno studiate, vanno messi in pratica e che nel concreto dovrebbero portare, secondo questa riforma, ad una restrizione dei tempi biblici che qualche volta la giustizia ha, spesso direi. Però di fatto è solo uno stravolgimento del codice di procedura civile che in questo momento è veramente, desta particolare preoccupazione per gli operatori, non solo per gli avvocati, anche, io parlo anche per quanto riguarda i giudici, anche i giudici stanno preoccupati perché effettivamente è di difficile interpretazione, cambia tutto, quindi bisogna studiarlo, bisogna metterlo in pratica. Adesso la prima cosa che ha fatto questo Consiglio, noi ci siamo riuniti lunedì, è stato proprio quello di mettere in programma un evento formativo che ci sarà lunedì 6 febbraio, via Zoom abbiamo due professori di procedura civile dell'Università di Bologna, un professore farà un approfondimento per quanto riguarda il processo civile in generale, un altro il processo civile in materia di famiglia. Per quanto riguarda il discorso del penale invece, io sono già in contatto con la Camera Penale di Fermo e con l'attuale Presidente che è l'Avvocato Andrea Albanesi e ci stiamo anche in quel caso attivando proprio per fornire un servizio di aggiornamento agli iscritti, proprio per aiutarli e per aiutarci un po' tutti per capire come muoverci nel miglior modo possibile, perché la riforma è veramente sotto certi aspetti preoccupante, perché non si sa bene dove vuole andare a parare. Allora se, posto che qualsiasi riforma, anche un po' nell'etimo, va a stravolgere. Sì, questa va a stravolgere. Va a stravolgere uno status quo, va bene. Adesso che questa riforma sia per molti versi incomprensibile, per voi che dovreste essere Allora, non è che è proprio incomprensibile, diciamo che è piena di novità che diventano di difficili attuazioni, cioè che rendono sempre il lavoro dell'Avvocato. Setticamente, Presidente, questa riforma è buona o no? Allora, per dire, secondo me, al momento direi che non è buona, nel senso che non andrà a ridurre un bel niente, perché il problema principale, almeno a mio avviso e secondo me anche ad avviso dei più, è proprio quello che, il problema è proprio quello della carenza di organico, delle cancellerie, la carenza dei magistrati, cioè va rivista la questione un po' diciamo in maniera proprio dall'alto, cioè va fatta… Mi stai dicendo che sostanzialmente è una riforma che in linea di principio potrebbe anche cogliere nel segno, potrebbe anche cogliere nel segno, esatto, no, è una riforma che comunque va, cambia dei termini, cambia la procedura, ma di fatto non va a ridurre quelli che sono i tempi della giustizia, cioè di fatto non porterà… Ma perché non riesce ad essere assimilata dalla struttura? No, 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 gli avvocati la assimileranno e tanto faremo tutto e cambieremo tutto di nuovo un'altra volta, questo lo faremo, lo faremo noi come avvocati, lo faranno i giudici e quindi tutto verrà cambiato, ma secondo me… Dove risiede il problema dei problemi? Il problema è la mancanza di giudici, cioè il fatto che ci sono pochi giudici rispetto a quello che è il carico di ogni tribunale, cioè il tribunale di fermo, anche se è un tribunale piccolo, ha dei numeri importanti, quindi ci vorrebbero più giudici, meno posti vacanti, una continuità anche nel tenere una causa, cioè dovrebbero essere dei termini perentori, non solo per gli avvocati che si vedono magari con gli atti che scadono e quello è un termine perentorio, se uno non lo fa decade e è finito tutto, perché poi dopo se dall'altra parte non c'è un discorso di celerità, di stessa celerità, ecco qua che il processo si sospende, cioè io ad esempio questa settimana ho ricevuto, mi è stata notificata una sentenza di un processo civile del 2017, sei anni per un giudizio di primo grado, sono tanti, cioè sono tanti, sono troppi, sono veramente troppi, cioè per ottenere il pagamento di, in questo caso era un pagamento di fatture per dei lavori, però sono comunque troppi per non parlare poi del discorso quando comunque sono coinvolti anche interessi anche diciamo più importanti, quando ci sono i mezzi minori, insomma questioni anche che vanno proprio a cambiare proprio la vita delle persone e allora in quel caso il processo deve essere veloce, cioè la risposta da parte dell'autorità giudiziaria deve essere tempestiva, cioè arrivare in maniera tempestiva a volte è tutto e poi ripeto noi siamo fortunati perché affermo veramente abbiamo un rapporto con i magistrati, cioè c'è comunque sia una collaborazione veramente importante con la magistratura, con il tribunale, con le cancellerie, con la procura, ad esempio sotto il periodo Covid c'è stata la collaborazione massima, ma è una collaborazione che va avanti anche adesso che non siamo più in emergenza sanitaria, quindi siamo anche fortunati, però purtroppo i numeri dei procedimenti sono tanti, i magistrati sono quelli. Quindi l'affanno si respira? L'affanno si respira, lo respiriamo noi ma lo respirano anche i giudici effettivamente, cioè io che comunque ho potuto un po' anche col discorso, col lavoro che è stato fatto col precedente consiglio, quindi mi sono confrontata a volte con magistrati per la stesura dei protocolli, per portare delle idee e tutto quanto e ho visto che effettivamente il carico è notevole. Come si risolve questo problema, questa carenza di giudici, di magistrati? Il ministero, cioè questo è un problema, aumentare proprio il numero dei magistrati, aumentare il numero dei magistrati. Ma c'è una risposta da parte? Noi al momento mi sembra che solo un magistrato è in maternità, quindi dovremmo essere al completo, però è un completo che non basta effettivamente, è un completo che non basta. Poi ripeto, il nostro tribunale sotto questo punto di vista è anche virtuoso. Almeno peggio rispetto alla... Sì, direi di sì, erano uscite anche delle classifiche, adesso non so, non mi ricordo dove l'ho letto, però comunque il tribunale di fermo non è che sta tra gli ultimi, è comunque posizionato a metà classifica e quindi significa che non è che siamo messi male. Dobbiamo migliorare. Dobbiamo migliorare, dici, giustamente per carità, poi si parla comunque sempre dei tempi biblici, no? Come ricordavi giustamente anche te. E questo va a pesare, gioco forza, sul cittadino, che in questo caso è il cliente. Si riesce a far capire, a far passare questo messaggio che purtroppo è una concatenazione di problemi. Si riesce, sì, certo, si riesce. Come nel caso della sanità, no? Bisogna essere chiari con i clienti perché, ecco, andare davanti all'autorità giudiziaria questi sono, insomma, i problemi che uno può poi affrontare. Ci sono anche metodi alternativi per la risoluzione delle controverse, ad esempio Affermo, c'è un organismo di mediazione, l'attuale presidente è l'avvocato Stefano Chiodini. Ecco. Ecco, ce l'abbiamo. Gira che ti rigira, l'abbiamo ritrovato e c'è un organismo di mediazione dove ci sono diversi colleghi appunto preparati che fanno da mediatori e funziona, funziona, però non tutte le controversie possono essere risolte in mediazione, non tutte, a volte c'è proprio bisogno del giudice, cioè dell'autorità giudiziaria che va a decidere in un determinato caso. Ecco, questo all'ignorante che ignora, quanto è importante il ruolo del Consiglio proprio per far passare queste informazioni che magari molti possono anche ignorare addirittura dell'esistenza di un organo di mediazione. Sì, gli avvocati non lo possono ignorare. No, voi no, ci mancherebbe altro. Però sì, il cittadino… Però il cittadino… Esatto. Beh, dopo sta all'avvocato capire se è una soluzione che deve comunque sia essere… Cioè, deve arrivare ad una transazione, perché la cosa migliore veramente è proprio la transazione, cioè proprio trovare un punto di incontro per evitare tempi biblici, per evitare costi sostenuti. Quindi nella maggior parte dei casi bisognerebbe andare in mediazione per cercare… Però è anche come l'avvocato deve capire, deve individuare bene queste controverse e dire cerchiamo di mediare e poi dall'altra parte ci deve stare un altro avvocato che la pensa nello stesso modo, perché sennò diventa un po' difficile. Però diciamo che la mentalità sta cambiando. In che senso? Beh, nel senso che tanti sono già informati sul discorso della mediazione, anche proprio il cittadino ha informato, facciamo una mediazione, portiamolo in mediazione. Io, qualche cliente me l'ha detto e io quando me lo dicono sono ben contenta, perché tante controversie possono essere transatte con gli avvocati, ognuno rappresentato dal proprio avvocato, quindi venendosi incontro, facendosi delle reciproche concessioni e si arriva a un risultato in un tempo brevissimo rispetto a quello che è il tempo per ottenere una sentenza che poi è sempre una sentenza di primo grado e quindi ci può essere l'appello, la cassazione e gli anni passano e alla fine quello che era importante magari dieci anni prima, alla fine uno non sa nemmeno e dici vabbè ho vinto, però sono passati dieci anni. Arrivederci, certo. Ma quindi anche il fermano si sta diciamo informando su quelle che sono le dinamiche? Beh l'organismo di mediazione si sta andando da diversi anni, sta lavorando. Voi come potete? Fa parte dell'ordine l'organismo di mediazione. Vorrei capire come potete voi come consiglio aiutare il cittadino anche a livello, passami il termine, informativo, cioè perché sennò magari il consiglio passa per essere un organo interno. Però qualche cittadino si presenta all'ordine per avere le informazioni che il cittadino viene, che ci vengono richieste, spesso si presentano magari per chiedere avvocati che hanno l'abilitazione per difendere con il gratuito patrocinio, questa è una richiesta abbastanza frequente, oppure tanti magari che non stanno in zona dicono ma vorrei insomma essere indirizzato a un avvocato penalista. Allora l'ordine non può indirizzare nessuno da nessuna parte, cioè non è che un consigliere o il presidente o il tesoriero o il segretario non è che può dire vai da questo, vai da quell'altro, assolutamente, però magari può fornire la lista di tutti gli avvocati che hanno l'abilitazione per difendere con il gratuito patrocinio che è un istituto di fondamentale importanza perché permette anche al non abbiente o comunque a chi ha un reddito basso di poter insomma adire l'autorità giudiziaria per ottenere, per far sì che venga riconosciuto un proprio diritto oppure in tema proprio di famiglia, tantissime sono le richieste di gratuito patrocino ma tanti proprio, tanti cittadini che si separano hanno proprio in quel caso proprio la necessità di avere un avvocato che li difende con questa modalità perché proprio quando la famiglia si disgrega che le finanze diminuiscono e poi è l'unico caso in cui il reddito che viene preso in considerazione per poter accedere a questa agevolazione chiamiamola così, viene considerato solo il reddito dell'istante di un coniuge, non viene sommato con l'altro mentre nei procedimenti normali il reddito che conta per poter poi fare causa a spese dello Stato, chiamiamola così, il reddito che conta è quello del nucleo familiare e quindi difficilmente uno ci rientra perché il limite è 11.700 rotti euro quindi di solito un nucleo familiare invece quando è solo il reddito di una persona tanti rientrano, infatti tanti sono i procedimenti di separazione e divorzio con parti ammesse al graduto patroginio a spese dello Stato. Quali sono gli oggetti di contenzioso che vanno per la maggiore nel Fermano oppure che hanno registrato una crescita insomma notevole? Io parlo per il civile perché non faccio penale quindi faccio civile e prevalentemente diritto di famiglia, da quello che ho potuto insomma anche vivere nel senso proprio come nel mio lavoro e tutto quanto le questioni di diritto di famiglia sono in aumento, non solo separazione e divorzi ma c'è proprio anche tutto un discorso legato al minore, al curatore speciale del minore, cioè le situazioni sono tante, non è solo mamma e papà si separano e quindi ecco, quindi questo sì sicuramente è un settore, non dico in chissà quale crescita perché comunque è sempre abbastanza gettonato, però sì c'è stato forse un momento, poi vabbè il tribunale fermo ripeto è un tribunale piccolo ma attivo, cioè i procedimenti sono tanti, cioè nel civile è tanto, nel fallimentare, esecuzioni, cioè i giudici hanno un carico, un ruolo abbastanza importante. Senti usciamo un po' dal tribunale, è una domanda che questa che sto per porre, non voglio porre al presidente, alla presidente o all'avvocato, in primis alla donna, perché il giorno delle delle votazioni, allo scrutinio è stato anche il giorno in cui si è rinnovato il consiglio del CPO e voi, no? Avete un comitato pari opportunità. Sì, un comitato che fa parte del COA. Diciamo che è un tassello molto importante del consiglio dell'ordine degli avvocati. Ecco, la domanda è questa, da donna anche in virtù del fatto che esiste un CPO? E quindi, insomma, evidentemente si lavora per tutelare la parità. La parità in questa professione e nel fermano c'è? A mio avviso sì, sto qui, sono una donna e sono stata eletta presidente, quindi ci sono delle, sicuramente delle difficoltà in più per una donna per fare determinati tipi di lavori. Però ripeto, il comitato è proprio importante per questo, lo è stato anche nei quattro anni precedenti, cioè noi il COA col CPO ha collaborato tantissimo, il CPO ha organizzato tanta formazione insieme al COA, ci sono stati veramente eventi importanti, interessanti, c'è stata una collaborazione con la presidente e amica Donatella Scerresi e abbiamo portato avanti dei progetti insieme sulla parità ma anche proprio come formazione per tutti gli avvocati. ok? Con la popolazione? Con la popolazione come vede l'avvocato donna? È un po' in maniera un po' diversa, un po' più discriminatoria rispetto all'avvocato uomo? Forse sì, le statistiche parlano chiaro, gli uomini guadagnano di più delle donne, nella maggior parte dei casi, cioè la stragrande maggioranza degli uomini guadagna di più delle donne. Ma perché lavora di più? No, non sempre è così, proprio perché questo è un bel problema effettivamente, questo sì. Lavora di più nel vostro caso? Nel nostro caso in realtà, in realtà, in realtà, più cause, non lo so. Non lo so, tra un avvocato uomo e un avvocato donna, ma propende per l'uomo, non lo so, è una domanda. Eh, non lo so, cioè nel senso, spero di no, spero che non venga fatta una discriminazione sul fatto se uno è uomo e donna, cioè bisogna vedere proprio la persona com'è, il professionista, la qualità, la preparazione, anche altre caratteristiche, le doti umane, tante cose poi contano, soprattutto in questa professione, sicuramente la preparazione sta alla base di tutto, ma poi contano anche altre cose, il saper, comunque il sapersi rapportare con quel cliente, con il magistrato, con, cioè riuscire veramente a, ad uscire un po' al di fuori di quello che è proprio la questione tecnica della causa, quindi la differenza, un po' di differenza sì, non posso dire di non aver mai, di non essermi mai sentita magari un po' in difficoltà e tutto quanto, però, però poi dopo viene fuori la tigna delle donne, cioè nel senso se una poi ci crede va avanti e secondo me si mette a pari, anzi può anche qualche fine in più, ecco, quindi però il comitato pari opportunità ci serve, per alcune questioni veramente è importante e quindi io sono, è stata eletta adesso presidente, sì Laura Botticelli, anche lei amica e collega Laura e sono sicura che con Laura, come è già stato con Donatella, ci sarà una collaborazione costante, ma il COA, la precedente consigliatura ha collaborato col CPO, come ha collaborato anche con la Camera Penale, con le associazioni, ad esempio con l'ONDIF, con l'AIAF, cioè diciamo che è stato un COA aperto un po' a quelle che sono le altre voci, cioè COA è una figura istituzionale, però noi siamo lì anche a servizio degli iscritti ma anche a sentire quello che hanno da dire gli altri, perché solo così poi alla fine si arriva ad offrire un servizio il più corrispondente a quelli che sono poi le esigenze di tutti gli iscritti, perché 670, 680 iscritti, sono anche 680 realtà a volte anche diverse, quindi c'è l'avvocato che fa penale, c'è l'avvocato che fa famiglia, c'è l'avvocato che fa magari solo lo stragiudiziale, di realtà ce ne stanno tante, oltre al fatto che il nostro è anche un territorio vasto, non c'è solo, il Tribunale di Fermo non è fermo, c'è tutto il discorso del, chiamiamolo entroterra, c'è il discorso invece che va più verso Porto San Giorgio, Grotta Mare è nella circoscrizione del Tribunale di Fermo, quindi abbiamo delle realtà anche proprio territoriali molto diverse, quindi quello che fa l'avvocato… E anche due distretti. E anche, esatto, quello che fa l'avvocato magari a Fermo è diverso da quello che fa l'avvocato a Falerone, per dire. Sì, certo, certo. Quindi questo è importante e anche per questo motivo i componenti del Consiglio dell'Ordine sono stati scelti come prima caratteristica per il discorso della preparazione, dell'esperienza eccetera, ma anche proprio per coprire il territorio, cioè per dire abbiamo rappresentanti dell'Ordine di Fermo anche nel territorio, questo secondo me è un valore aggiunto. Non è un consiglio fermocentrico, diciamo così. No, è un consiglio, cioè direi di no, perché comunque il Tribunale di Fermo è tra di tutti quelli che rientrano. Con il tuo predecessore, giovedì scorso, abbiamo anche toccato, seppur marginalmente, il fenomeno del calo di iscritti. Sì. E questo fa il paio con una riflessione che vorrei fare con te per quanto riguarda l'avvocatura e i giovani. Questo calo, partiamo proprio dai numeri, è un calo che prevedevate, è un calo fisiologico, è un calo che state cercando di arrestare. Sì, era prevedibile dal momento in cui nei due anni precedenti sono usciti tantissimi concorsi per cancellieri, funzionari, quindi era molto prevedibile che qualche collega, magari tanti l'hanno fatto, alcuni l'hanno vinto, perché comunque parliamo anche di colleghi, preparati anche con esperienza e si sono cancellati. E quindi sì, c'è questo calo, non c'è solo da noi, c'è in tutta Italia, quindi è un calo proprio che interessa tutta la nazione. Sui nuovi iscritti, che dire, ci sono state diverse nuove iscrizioni, quindi alcuni si sono cancellati, altri perché magari appunto sono stati assunti come cancellieri, come funzionari, altri nel mondo della scuola, come insegnanti, ci sono state anche delle assunzioni importanti per quanto riguarda il concorso che è stato fatto per l'ufficio del processo, quindi tanti giovani hanno fatto questo concorso, l'hanno superato e adesso fanno parte dell'ufficio del processo. Insomma, c'è stato un po', cioè c'è stata e c'è tuttora, ogni tanto arriva ancora qualche cancellazione e soprattutto le donne purtroppo, devo dire, si sono cancellate nell'80% dei casi, però è pur vero che tanti giovani si sono iscritti. Magari sono più brave i concorsi. Esatto, può darsi, sono più, esatto, sono più brave i concorsi, li vincono e questo è. La professione nutre ancora una PIL, nutre una PIL? Ma per me sì, cioè, secondo me sì. Perché alcuni tuoi colleghi diversi, i tuoi colleghi mi hanno raccontato che insomma non è facile. No, non è facile, è difficilissimo. Fare l'avvocato come proprio in termini proprio di lavoro. In termini di lavoro, in termini di proprio incombenti, in termini proprio di conti, di spese, tantissimo. Sì, di spese, ma anche di varie proprio incombense anche burocratiche, anche solo bisogna veramente essere anche degli esperti informatici a questo punto perché è tutto telematico, cambia tutto e bisogna fare attestazioni. Insomma, è diventato veramente impegnativo, però la PIL dell'avvocato no, non cambia. Cioè, secondo me difendere una persona per ottenere giustizia, io credo che, non lo so, almeno per quanto mi riguarda, è un lavoro che dà grandissime soddisfazioni. Quindi, ma non parlo del punto di vista economico, perché dal punto di vista economico purtroppo non dà grosse soddisfazioni al momento. Però dal punto di vista umano… Perché? Perché ne siete tanti? Ma perché c'è… Oppure perché c'è una difficoltà di incassare. C'è una difficoltà di incassare, c'è una difficoltà di incassare, questo come prima, diciamo, come prima cosa è questo, c'è una difficoltà di incassare perché effettivamente, soprattutto il privato fa fatica. Però, ripeto, non è solo la difficoltà di incassare, è proprio la difficoltà di gestire un rapporto col cliente, col giudice, con tutto quello che è il sistema. Prima era più semplice. Prima era più semplice. Io ho iniziato la pratica, ho iniziato nel 95 e poi mi sono iscritta come avvocato nel 99, quindi ho vissuto un po' gli anni, diciamo, fino al, dal 95 al 2006, 2007. Era più semplice. Veramente era più semplice. E che cos'è cambiato? È cambiato, è cambiato, sono cambiate proprio le regole, proprio la procedura è cambiata, cioè la procedura nel senso che è diventato difficile, sono stati messi determinati paletti, anche proprio dalle varie riforme che si sono succedute, qui torniamo al discorso di prima. E poi, e poi vabbè, il numero sicuramente quello incide, cioè tanti sono gli avvocati, tanti sono i colleghi che magari hanno, si sono iscritti e poi magari hanno fatto anche altro, quindi c'è stato un po' questo boom degli avvocati, a un certo punto eravamo tantissimi, cioè tutti avevano un avvocato in famiglia. Ecco, adesso la cosa si sta un po' più, cioè si sta ridimensionando e potrebbe secondo me anche essere un bene, nel senso che quelli che vogliono fare altro, stanno facendo altro, magari anche con più soddisfazione economica, quelli che invece vogliono restare perché vogliono restare. Amano proprio. Perché, beh, allora, lo odio tantissimo ma non potrei farne a meno, cioè nel senso che questo veramente è un lavoro bello, secondo me è bello, secondo me è bello perché è a contatto sempre con altre vite, con altre situazioni, cioè uno veramente cresce tanto se fa questo lavoro, cioè almeno per me è stato questo, se è stata una crescita continua, non solo professionale ma proprio umana, io l'ho vissuta e la sto vivendo in questo modo e la voglio continuare a viverla in questo modo. Aiutami a capire, l'avvocato deve avere una certa sensibilità oppure è meglio che resti un po' col cuore di pietra, diciamo così, per non farsi condizionare e trasportare emotivamente e di riflesso poi a livello professionale avere un po' una sbandata, diciamo così. No, allora, deve rimanere sempre nel suo ruolo, quindi non è che deve coinvolgersi più di tanto con la questione che sta seguendo, ci deve essere sempre quel distacco, però è pur vero che bisogna vedere qual è la situazione. Certo che un avvocato, chiamiamolo così da affari, deve avere il cuore di pietra, nel senso che deve essere deciso e determinato e magari anche cinico, però non tutte le controverse richiedono cinismo, alcune proprio il cinismo uno non lo deve avere, ad esempio sulle questioni di diritto di famiglia secondo me conta tanto la sensibilità e il… sensibilità non significa farsi trascinare o influenzare dal cliente, no, significa solo capire qual è la cosa giusta in quel momento da fare, cioè capire qual è il consiglio giusto da dare a quella persona che sta affrontando quel tipo di problema, non significa però essere in balia del cliente, anzi il cliente… deve essere proprio indirizzato, cioè deve essere, deve fare il cliente e l'avvocato deve fare l'avvocato, basta, però ecco la sensibilità soprattutto per chi si occupa di diritto di famiglia per me è un requisito imprescindibile. Torniamo a parlare di ragazzi perché voi, non mi ricordo ma diversi mesi fa avevate avviato anche dei progetti molto simpatici, molto merini che coinvolgevano le scuole. Sì, l'abbiamo avviato l'anno scorso, il progetto Legalità si chiama, è un progetto che per l'ordine di fermo è stato un vero successo, l'anno scorso si è concluso col torneo della disputa e è stato bello perché hanno, ha coinvolto diverse scuole del Fermano, sia scuole elementari che medie, istituti superiori, licei e istituti superiori e c'è stato un grande coinvolgimento. In questo il COA e soprattutto la consigliera Alessia Capretti è stata di una bravura veramente importante nel senso che ha saputo coinvolgere le scuole e i colleghi che si sono prestati, hanno proprio lavorato nelle scuole, colleghi di fermo del nostro COA, andavamo lì e portavamo avanti un progetto, adesso i progetti erano tre a seconda appunto delle scuole, ma c'è stato un coinvolgimento importante, anche un riscontro proprio da parte dei cittadini. E se non ricordo male è emersa anche una certa qualità. È emersa una certa qualità, cioè al torneo della disputa ci sono stati veramente delle belle sorprese, cioè le scuole hanno portato dei ragazzi motivati, preparati, quindi è stato bello. Non era un gioco. No, non era un gioco, non è stato un gioco e il COA bene ha fatto a portare avanti questo progetto, tanto che il progetto è ripartito pure per quest'anno e ci sarà una conferenza stampa il 13 di febbraio, dove appunto verranno presentate le scuole, gli argomenti, sono sette istituti, e ci sarà anche un istituto di Pescara, anche da fuori regione. E questo è uno insomma, un progetto del COA che è stato veramente interessante e è stato fatto grazie proprio al lavoro di questi colleghi che si sono prestati ad andare proprio, cioè a perdere, cioè hanno proprio impegnato il tempo per andare nelle scuole, per spiegare, per parlare con i ragazzi. E questo è importante perché è il futuro, cioè nel senso anche trasmettere questo tipo di messaggio, è importante portarlo nelle scuole. Quindi il COA non è che rimane lì come istituzione solo ed esclusivamente per... Arroccata le distanze. Arroccata, no, no, assolutamente. Cerchiamo di uscire, di essere direi anche utili. Ha fatto la domanda all'avvocato, ha fatto la domanda alla Presidente, alla donna, adesso alla persona, chi è Fabiana Screvante? Soprattutto a chi dedica questa elezione, no? Questo, beh, questo... Io direi, insomma, questo è un passo importante, no? Anche a livello professionale, essere la Presidente di un Consiglio dell'Ordine. Chi è Fabiana Screvante? Partiamo dall'identità. Ma... Non lo so, cioè nel senso, lo so benissimo chi sono e sono una persona normale, quindi una donna normale. Noi ti abbiamo conosciuto anche con una persona molto operativa, molto tenace. Sono molto tenace, questo sicuramente. Sì, sono molto tenace, sono molto responsabile, nel senso che se poi mi prendo un impegno lo porto a termine, costi quel che costi. Questo era un tuo obiettivo? Questo... No, non era un mio obiettivo. Non... Fino a... Non so, un anno fa io non ci pensavo, sinceramente. Cioè, proprio non è che era un mio obiettivo. Il mio obiettivo è stato sempre quello di lavorare bene e al tempo stesso di essere anche una persona completa, non solo a livello... Non parlo... Non dico solo a livello lavorativo. Cioè, concentrare anche su altre questioni, perché comunque una persona è fatta solo di lavoro. Io ho una famiglia, ho due figli, per dire che... Adesso non è che voglio... Cioè, non voglio essere... Però per me loro, diciamo, sono il centro di tutto. Ma questo... Non è che... Il fatto... Cioè, io dico, loro sono il centro di tutto. Però non significa che sono tutto, ok? Sono solo il centro dove... Poi ci sono io, cioè, nel senso... Poi, ecco, questa è stata una grossissima soddisfazione per me, per loro, per la mia famiglia, per i miei. Io non sono figlia d'arte, quindi è stata una bella soddisfazione anche per loro. Anche se magari mamma dice... Sì, bravissima, però stasera dentro al frigo qua non c'è nulla. Quindi, cioè... Brava, brava, però... Ecco, per dire che io sono concreta. Penso di essere una persona concreta. La dedico... La dedico a tu, cioè, la dedico a chi mi vuole bene, in realtà. Non è che... In particolar modo... Ecco, una dedica... Adesso proprio un po' mi commuovo. La dedico a mia suocera, che è morta l'anno scorso. È morta di Covid. E è forse la persona in assoluto che ha visto in me delle qualità tantissimi anni fa che nemmeno io avevo visto. Che l'ho scoperta dopo. Quindi lei l'ha intercettata quando veramente ero una persona acerba, nel senso... Ero una ragazza... Ce le riveli queste qualità? Le mie qualità? No, vabbè... Non lo so... Sono... Allora, leale sicuramente e poi... Non lo so... Sono determinata, credo di essere determinata e poi... Ironica... Non lo so... Cioè... Tutto e niente... Non lo so... Non riesco a descrivermi esattamente. Sono comunque quello che volevo essere. Questo sì. Cioè sono diventata quello che volevo diventare quando ancora non sapevo quello che fare. Questo. È stato difficile conciliare l'essere donne e quindi come dicevi bene prima, no? Avere anche una famiglia, avere dei figli e portare avanti una carriera? Sì, è stato difficile ma lo rifarei altre mille volte. Grazie. Grazie all'Avvocato Fabiana Screpante e alla Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo. Grazie per averci attaccato. Grazie. Grazie, Giorgio. Grazie. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.